Ecco, prima di rimontare ho dato un po' di grasso sulle guide, su entrambe, e così almeno anche un po' sui cavi, che così almeno il movimento è un po' più, spero sia un po' più fluido. Bene, rieccoci alle prese con il rimontaggio di tutto il meccanismo, allora, dobbiamo rifare e ricordiamoci come l'abbiamo fatto per smontarlo. Prima si fa passare di qua, si inserisce all'interno della portiera, poi si fa passare all'altro lato. Ok, per il rimontaggio ottenetevi la carta, dato che è stato l'abbiamo muto di grasso, poi se volete, quindi si inserisce nell'occhiello, si inserisce l'altra vittina, e magari ci mettiamo senza serrarli i due dadi, così se ne sta un po' fermo e non rischiamo che sul più bello che stiamo agganciando il vetro questo ci cada. Ecco, andiamo a fare la stessa cosa di qua, qui c'era un guida-cavo che andremo comunque a sistemare tra un po'. Ok, andiamo a mettere i dadini stretti a mano, lo ricordiamoci poi di streggere tutto. Qui sotto, se vi ricordate c'era un passacavo, quindi andiamo a rincastrare, eccolo qua, a rincastrare il cavo flessibile nel passacavo, qui sotto con la mano sentirete che c'è un pochiello, adesso per un supporto non ci serve il motorino, per l'altro poi ci servirà, vedete. Allora, andiamo ad abbassare il vetro con le mani. qui dobbiamo andare a incastrare i dentini che vi ho fatto vedere prima nel supporto. ecco, sono troppo giù, eccolo qua, adesso è incastrato. Spero che si sia visto. Ora, qui sotto manca la bussoletta, quella che tiene la vite. Dobbiamo andare a inserire. ecco, inserita, spero che si veda. E poi tocca a questa. E qui potrebbe caderci più volte prima di riuscirci, attenzione. Ecco, un trucchetto buono. Ecco cosa ho fatto. Eccolo qua, ci ho messo del grasso. Così il grasso mi fa un po' da colla e mi tiene la vite attaccata. Dito dietro e andiamo ad avvitare. Allora, qui, attenzione che non serve che sia tanto stretto. Diciamo, boh, potrebbe essere una coppia di 5 Nm. Ora, per attaccare quest'altro, per andare a serrare quest'altro supporto, un po' una rognetta, bisogna rimettere il motorino, accompagnandolo, farlo salire fino a questo foro. Dopodiché diventerà visibile l'asola nella quale reinserire il suo prigioniero, cioè questo, da dietro, e chiudere la vitina da 8. Bene. Allora, abbiamo serrato i 5 dadi. ecco qua. Abbiamo rimontato il motorino, il suo connettore. Adesso dobbiamo far scendere il vetro, fino a che in questo foro che c'è qua, compaia il forellino. Non questo. Eccolo qua, questo. Si vede? Eccolo qua. Eccolo qua. Qui adesso, qui andiamo a infilare il prigioniero e rimettere il dadino. Ecco. Noto che qua, a causa della... di questa centina di rinforzo, non si riesce a infilare bene il dito, quindi alzo un pochino il vetro. Vado a infilare il prigioniero, sentendo col dito. Ecco. E vado a riabbassare. Ecco, adesso si vede anche il prigioniero non il forellino. Lo vedete qua. E adesso ci vado a mettere il suo bulloncino. Come abbiamo visto prima, metto un po' di grasso sulla brugola e lo vado a avvitare. Ecco qua. Stringiamo non troppo. Così va bene. Abbiamo il nostro... eccolo lì. Adesso il vetro è finito. Possiamo anche fare la prova. Ecco, facciamo la prova. Guardiamo anche il vetro che scorre all'interno. bene. Per preservare i meccanismi, oltre... oltre al grasso che ho messo sulle guide, sarebbe meglio mettere anche sulle guide del vetro della graffite spray. Qui. Qui. O comunque tenerla ben pulita. Bene. Ora non ci resterà che rimontare tutto il pannello, eseguendo al contrario tutte le operazioni che abbiamo già visto. E basta. L'operazione è finita. Abbiamo finalmente riparato questo vetro che stava per abbandonarmi da un momento all'altro. e non è bello perché quando si rompe del tutto cade all'interno della portiera. Bene. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace. visitate il mio canale ed iscrivetevi soprattutto. Iscrivetevi anche al canale di Motoraders e di GDG il punto manutenzione e al sito il punto manutenzione punto it e anche al forum dove io sono frequentatore assiduo e dove troverete tanti amici e anche molte persone competenti, molto più di me, che vi aiuteranno nei vostri problemi con le vostre auto. Ciao a tutti! Abbiamo fatto una cazzata! Casino, 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 abbiamo fatto una cazzata, abbiamo fatto una cazzata, casino, abbiamo fatto una cazzata. Buona! Ciao! 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 Ciao!